Provate voi a lavorare Se otto ore vi sembran poche Provate voi a lavorare E provere e terra di fare Pensare a lavorare e domandare E provere e terra di fare Pensare a lavorare e domandare Allora per sapere esattamente cosa è giusto Bisogna mettersi nei panni degli altri Bisogna sempre mettersi nei panni degli altri Per un attimo sarebbe utile mettersi nei panni di un licenziato Per fare una buona legge sui licenziamenti O di un esodato, bruttissima parola E per capire l'importanza di servizio pubblico Sarebbe bene che Vittorio Feltri Mettesse un attimo da parte i suoi gusti E provasse a infilarsi nei miei vestiti Perché potrebbe scoprire quanta enorme soddisfazione Noi abbiamo per il fatto di essere partiti Insomma con l'aiuto del pubblico e di centomila sostenitori Che ci hanno dato i soldi per fare quattro puntate E poi ne abbiamo messi insieme Dicennove con quella di stasera E dopo un paio di settimane di sosta per Pasqua Torneremo Per cui sarà la prima volta che un programma Riesce a tagliare il traguardo di una stagione intera televisiva Senza avere alle spalle un editore Una cosa veramente straordinaria Bene Certo Potevano essere anche molti di più Quelli che ci seguivano in questa impresa Anche perché badate Noi arriveremo a questo risultato Avendo trovato sul mercato Tanta pubblicità E questa pubblicità che abbiamo trovato È il primo segno di un duopolio Che scricchiola Quello di Rai e Mediaset Segno di un grande cambiamento Che potrebbe intervenire nel nostro sistema Per cui approfondire queste contraddizioni Potrebbe essere molto importante Però caro Feltri Insomma potresti anche fare qualcosa Per spiegare ai tuoi lettori Che non è una cosa da niente Mettere insieme per 19 puntate Il 7% di share battendo Non lo so Rete 4 Rai 3 La 7 E molte volte Italia 1 E molte volte anche Rai 2 Prima che metteste in campo L'isola dei famosi Non è una cosa da niente D'altra parte Voi avete Ferrara Avete Sgarbi Che collaborano Con il vostro giornale Quindi potete sempre provarci A lavorare al posto nostro Per vedere la differenza Ma quello che è più importante È che a un certo punto Voi addirittura Pur di trovare qualche cosa Da dire su di noi Vi comportiate come Insomma quei giapponesi Che continuavano a combattere Nella foresta Senza capire Che Masi era finito Cioè Ritrovate addirittura Masi lo sbattete in prima pagina Con una affermazione Veramente micidiale Cioè Masi scrive un libro E in questo libro C'è una affermazione sconvolgente Santoro ha rifiutato 17 milioni di euro Offerti da Masi Allora mi credo A parte il fatto Che vorrei trovare Una sola persona Che non esoda Quando gli offrono 17 milioni di euro Io personalmente Avrei esodato volentieri Usando insomma Tra virgolette Questa espressione Ma Insomma Ci sono tanti lettori Nel giornale Che possono spiegare Qual è la differenza Tra il costo Di un programma E Quello che ne ricava Il suo conduttore Ora 17 milioni di euro Per tre anni Ma anno zero Ogni anno che andava in onda Costava all'incirca 7 milioni di euro Quindi per tre Fanno 21 milioni di euro E 21 milioni di euro Tra l'altro Era quello che costava Ma quello che rendeva Alla RAI Erano molti e molti milioni Di euro In più Questa era la cosa importante Milioni di euro Che oggi mancano Dalle casse Della RAI Ora il conto è presto fatto 21 Meno 17 Per tre anni Fanno 4 milioni di euro In meno Quindi lo scandalo Non era quello Lo scandalo sarebbe stato Se questi programmi Poi nel momento In cui andavano in onda Non facevano ascolto Oppure non realizzavano entrate Cioè questo era il punto Ovviamente Che si doveva vedere E sarebbe stata Una scommessa Futura Ma Insomma Voglio dire Si fanno queste polemiche E poi ci si dimentica di tutto A proposito Io avevo una casa da Malfi Tutti sanno che io ho una casa da Malfi Perché insomma Il giornale Ha fatto dei titoloni Di prima pagina Su questa casa da Malfi Su presunte irregolarità Com'è finita la storia A casa da Malfi Lo sapete voi? Naturalmente era tutto regolare Ora Dovete sapere Che grazie al fatto Che L'avvocato Fiore Ha stabilito Diciamo Un Come dire Un Un accordo Con il giornale Tutta una serie di cause Che io avevo con il giornale Sono terminate Insomma E per cui Il giornale mi ha riconosciuto Insomma Per queste cause Una certa somma Siccome La casa era tutta regolare Adesso finalmente Io mi posso dedicare al giardino Così ho deciso che Per ogni cespuglio Per ogni Pianta Che io metterò In questo giardino Gli darò il nome Di una di queste cause Però Scusate Devo fare un appello A Feltri Ma veramente Lo faccio col cuore Cioè Caro Feltri Caro Vittorio Masino Per favore Masino Perché un albero Nel mio giardino Che si chiama Masi Proprio non lo voglio mettere Questa è una roba Che è davvero Insopportabile Per cui Approfitto Della circostanza Per dire Buona Pasqua A voi tutti Per dire Buona Pasqua Al giornale E ai lettori Del giornale Per dire Buona Pasqua A Vittorio Feltri Che tutto sommato È un nemico Amico Di servizio pubblico A tra poco Amico